La vita è fatta di istanti, istanti in cui noi viviamo e non siamo mai presenti, non siamo mai consapevoli, non siamo mai immersi in questo singolo momento che è il momento presente, il momento della consapevolezza, il momento in cui la mente è concreta, quella di superficie non c'è e c'è l'assoluta pienezza di sé, l'assoluta identificazione con l'osservatore silenzioso che è l'anticamera dell'anima. In questi istanti di vita che noi viviamo più o meno coscientemente si svolge quella che viene chiamata la quotidianità. Ecco, nella quotidianità si può pensare che la vita sia un qualcosa di fermo, di statico, ma non lo è, ha una matrice fluida, una matrice che da momento in momento può variare, può far cambiare tutto, può far crollare le nostre convinzioni, può far accadere un qualcosa che non ci aspettavamo. Ecco, in questo documento volevo sottolineare il fatto che nella vita possono capitare cose impreviste. Nella vita una batosta può farci cadere e facendoci cadere può farci restare fermi in un luogo, in un posto, fermi con delle persone che non appartengono più a quello che deve essere, sarà il nostro futuro. Quando la vita ci fa cadere occorre un attimo di trego, occorre respirare, occorre darsi tempo, darsi il tempo per comprendere che cosa quell'evento vuole dirci. In quel farci cadere può toglierci le nostre convinzioni, può toglierci i nostri attaccamenti, può far andare via una persona, può far morire qualcuno a noi caro, un animale, una persona può abbandonarci. Ecco, restare fermi nella fossa della caduta ci sta per un periodo di tempo, ma dopo occorre tirare le somme, tirarsi sulle maniche e ricominciare il cammino, accettare la sconfitta a volte è la miglior vittoria per scoprire quello che la vita stessa per noi ha in servo nel futuro. Grazie.